Il Papa, nel suo discorso ai partecipanti all'incontro promosso dalla Confederazione Europea degli ex-alunni dei Gesuiti, giunti a Roma per studiare le radici della migrazione forzata, ha rimarcato la necessità di agire contro la crisi umanitaria più grande dopo quella provocata dalla Seconda Guerra Mondiale, che coinvolge e travolge nel mondo più di 65 milioni di persone, costrette dalla violenza o dalla fame ad abbandonare le proprie terre. Guerre e conflitti, ha detto il Pontefice, che sembrano irrisolvibili, come quello in Siria o in Sud Sudan, ma che invece possono essere superati e vinti dal coraggio, dalla compassione e dalla generosità. La stessa che 35 anni fa, Mos e padre Arrupe, fondatore del Jesuit Refugee Service, ad agire in soccorso delle popolazioni vietnamite esposte agli attacchi dei pirati nel Mar Cinese del Sud, mentre cercavano altrove la pace. L'invito del Papa agli ex alunni dei Gesuiti è stato dunque quello di ascoltare il grido dei poveri, mettendo fine anche alle morti nel Mediterraneo, diventato un cimitero. Anche con il vostro aiuto la Chiesa sarà capace di rispondere più pienamente alla tragedia umana dei rifugiati mediante atti di misericordia che promuovano la loro integrazione nel contesto europeo e al di là di esso. Vi incoraggio perciò a dare il benvenuto ai rifugiati nelle vostre casse e comunità, in modo che la loro prima esperienza d'Europa non sia quella traumatica di dormire al freddo nelle strade, ma quella di un'accoglienza calda e umana. Ricordate che l'autentica ospitalità è un profondo valore evangelico che alimenta l'amore e la nostra più grande sicurezza contro gli odiosi atti di terrorismo. Sottolineando ancora il dramma dei bimbi rifugiati che non hanno accesso alla scuola primaria, il Papa ha esortato il Jesuit Refugee Service a mettere in moto la misericordia anche in campo educativo, contribuendo così a costruire un'Europa più forte e solidale.